Allora, abbiamo qui Antonello Laneri, a questo punto il campionato è vinto, non possiamo dire sì? Sì, matematica è vinto, matematica no, però siamo quasi arrivati, quindi ci serve solo un bullo per essere matematici. Quindi speriamo che lo prendiamo domenica e così finiamo questa stagione per come l'avevamo programmata. Aspettiamo di finire questa stagione e poi naturalmente penseremo alla prossima, ci sarà anche lei nella prossima stagione. Sì, il Presidente ha annunciato questa ricorda, ma sono contentissimo, l'avevamo già iniziata all'inizio dell'anno, dovevamo fare l'aeroprovo, non ci siamo riusciti, ci abbiamo messo la faccia, però ci siamo riusciti sul campo e quindi sono molto contento. Benissimo, la ringrazio.